I lavori per la sistemazione delle basole spezzate nel tratto veicolare di Corso Vittorio Emanuele all'altezza tra la Camera di Commercio e il Teatro Margherita sono ancora incompleti. I lavori, avviati ai primi di gennaio, avrebbero dovuto prolungarsi per una decina di giorni. Invece è trascorso più di un mese da quando avrebbero dovuto essere completati e i lavori sono stati di nuovo sospesi. Questi lavori, soprattutto nelle ore di punta, portano di saggio gli automobilisti, formando lunghe code. Abbiamo condattato l'assessore in merito Marcello Franciamone che ha dichiarato che i lavori verranno ultimati a partire dalla prossima settimana, quando la ditta riceverà il materiale per completare i lavori.